Istituzioni e sindacati operino insieme sull'avvertenza Treofan di Battipaglia. Ad affermarlo Gigi Vicinanza, sindacalista della CISAL provinciale, che prende le difese dei lavoratori dell'industria che produce film in polipropilene, acquisita solo due mesi fa da una multinazionale indiana, e che ora vedrebbe a rischio licenziamento più di 200 operai. Battipaglia non può permettersi di perdere un'azienda fondamentale per lo sviluppo della città, spiega Vicinanza. Ecco perché spero ci possa essere una presa di posizione di tutta la classe politica della città, sindaca in testa, e aprire una discussione su quella che adesso a tutti gli effetti può essere denominata l'avvertenza Battipaglia. Quella della Treofan conclude Vicinanza, è un film già visto. Sul tema sono intervenuti anche Anna Bilotti e Michele Cammarano, rispettivamente deputata e consigliera regionale campano del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato un'interrogazione ad hoc al Ministero dello Sviluppo Economico affinché vengano chiariti i dettagli della vicenda.